Negli ultimi 5 anni la Polizia Municipale di Verona ha sequestrato qualcosa come 4.374 veicoli perché sprovvisti di assicurazioni, di cui solo 758 nel 2018. Un fenomeno che non accenna a diminuire quello degli automobilisti che guidano senza la copertura assicurativa o con la revisione scaduta, ma che ora avranno vita più difficile. Sentiamo perché. La Polizia Municipale di Verona ha ora altri due apparecchi più sofisticati di quelli già in dotazione per contrastare l'evasione assicurativa e aumentare di conseguenza la sicurezza stradale limitando il numero di veicoli che circolano senza assicurazione o con la revisione scaduta. La Fondazione Ania, che raggruppa tutte le assicurazioni in Italia, ha messo a disposizione della Polizia Locale grazie anche a Cattolica Assicurazioni due apparati street control. Eccone uno, pensate, in un secondo fa la bellezza di 100 scatti, digitalizza la targa del veicolo che si trova davanti o di fianco, lo confronta in tempo reale con il database del Ministero e se non risulta in regola sul display appare il segno rosso, così l'auto viene subito fermata, sequestrata e l'automobilista sanzionato con multe da 800 a 3.000 euro. Il progetto, che si chiama Plate Check, parte a Verona perché è riconosciuto dalla Fondazione Ania città simbolo per quanto riguarda la sicurezza stradale. Motivo di orgoglio, Fondazione Ania, che rappresenta tutte le compagnie assicurative, ha scelto Verona grazie al sistema Giano. Queste due apparecchi leggono centinaia di targhe in pochi secondi e permettono ulteriori controlli che necessitano in una città in cui in questo momento oltre 700 veicoli sono già stati scoperti privi di assicurazione. 758 per l'esattezza dall'inizio dell'anno, una questione di rispetto e di legalità, un modo anche per cercare di limitare al massimo il fenomeno della pirateria stradare. La maggior parte delle persone infatti che provoca un incidente e poi fugge è perché ha il veicolo non in regola.